Come vedi, molto spesso quando si parla di leadership, quando si parla della ricerca di leader in questo momento, è perché c'è un po' di carenza, come si dice. Perché ci troviamo persone che hanno perso la propria bussola, hanno perso la bussola non solo dei propri valori, ma la bussola anche del dove stanno andando. Organizzazioni che hanno perso la bussola si ritrovano a fare troppe cose che vanno in direzioni diverse e tu quando sei a capo di una nave che vuole andare in direzioni diverse difficilmente riuscirai ad andare in quella direzione che invece era funzionale. Ci sono tante organizzazioni che fanno troppe cose e disperdono energie in troppe direzioni. Allora, se vuoi veramente prendere da questo messaggio oggi decisioni su cui poi domani lavoreremo con il percorso che sarà, che sarà, che verrà chiamato proprio nel caso specifico verrà chiamato, che viene chiamato metodo perché le persone che prendono decisioni con metodo sono quelle decisioni che poi hanno un grande risultato.